driver 2 arnoldi paolo piede sul freno dentro la prima entri a marcia molliamo il freno non succede niente adesso con calma acceleriamo grazie a tutti Dopo un curatore di mox possiamo accelerare ma rimaniamo solo a destra, ci allargiamo a sinistra, ci allargiamo a sinistra, ci allargiamo a sinistra, ci allargiamo a sinistra così, scaliamo, ancora una, andiamo al terzo gas, ci allargiamo a sinistra, continuiamo a generare, ancora, ancora, si fa tutto in progressione, sulla destra, ancora, ancora, in visita, ci allargiamo a scende, ci allargiamo a destra, quanto accende a stagione, Arriviamo a marcia E' tutto il tutto il gas Grazie a tutti. Adesso rimaniamo sulla destra. Grazie a tutti. Grazie a tutti.